Potrebbe finalmente sbloccarsi l'avvertenza forestale Campani. La notizia che giunge come una boccata di ossigeno per gli oltre 2.000 addetti di Salerno e provincia che da due anni attendono il pagamento degli stipendi è venuta fuori dall'acceso vertice che si è tenuto ieri in regione Campania. Mentre fuori da Palazzo Santa Lucia esplodeva la rabbia anche con lievi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, al tavolo delle trattative erano seduti i rappresentanti dei lavoratori, i sindacati e gli assessori regionali Daniela Nunes e Gaetano Giancane. Proprio i due componenti dell'esecutivo del governo Caldoro si sono impegnati a sbloccare immediatamente 9 milioni di euro relativi alle attività effettuate nell'anno 2011 per la forestazione e altri 20 milioni di euro quali anticipazioni per il programma di interventi relativo all'anno in corso. Inoltre per quanto riguarda l'annualità 2012 saranno agevolate le erogazioni di fondi a vantaggio delle comunità montane che non hanno ancora presentato le rendicondazioni secondo le normative vigenti. La nostra priorità è la tutela dei lavoratori del comparto e pertanto, ha sottolineato l'assessore Nunugnes, andremo avanti con tutti gli strumenti a disposizione in tutte le sedi affinché gli enti inadempienti presentino le documentazioni necessarie. Dall'altro lato CGL, Cisle e Will hanno lanciato l'ultimatum. Adesso Caldoro gli ha corso immediatamente a quanto definito durante l'incontro, altrimenti la mobilitazione proseguirà ad oltranza. Sulla stessa scia anche i consiglieri del PD. Vigileremo con determinazione sulla tempistica e sull'attuazione degli impegni assunti senza fare sconti a nessuno.